Secondo un'indagine recente, nell'ultimo anno circa 17.000 lavoratori pugliesi fuori sede sono tornati a casa grazie allo smart working. Scopriamo di più nella scheda. Nell'ultimo anno in piena emergenza pandemica circa 17.000 lavoratori pugliesi fuori sede hanno scelto di tornare a casa senza per questo dover rinunciare al proprio impiego grazie alla possibilità di sfruttare i vantaggi dello smart working. E' quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it che sottolinea quanto smart e remote working siano per molti un'occasione per riorganizzare la propria vita anche dal punto di vista abitativo. E tra le categorie che ne beneficiano di più ci sono proprio i lavoratori fuori sede. A livello nazionale, nell'analisi, si legge che circa 400.000 individui, ovvero il 20% dei fuori sede, ha deciso di trasferirsi dal luogo in cui ha sede l'azienda per cui si lavora. Il 75% di loro ha scelto di tornare a vivere nel luogo di origine, mentre il 25% ha preferito trasferirsi in un'altra città, diversa sia da quella in cui è nato, sia da quella dove ha sede l'azienda per cui lavora. Tra le motivazioni che hanno spinto i fuori sede a cambiare città c'è sicuramente quella di tipo economico. Si stima inoltre che la ritribuzione media degli smart workers di ritorno è pari a 1.840 euro per uno su tre lo stipendio mensile inferiore a 1.500 euro. Cambiare città mantenendo lo stesso lavoro ha permesso quindi a molti di migliorare il proprio tenore di vita. Il 28,1% ha dichiarato che la ragione principale per cui ha deciso di rimanere a lavorare da remoto è perché, pur percependo lo stesso stipendio, può permettersi cose che prima da lavoratore fuori sede non poteva. La prima ragione per cui si è scelto di lavorare da un'altra città è la volontà di trovare un ritmo di vita più a misura d'uomo. Analizzando le prospettive future, sei smart workers di ritorno su dieci hanno dichiarato di non avere intenzione di tornare a fare i fuori sede con case in affitto e di voler continuare a lavorare da remoto dalla propria città di origine o da quella in cui si sono trasferiti dopo il lockdown. Il recente osservatorio di Facile.it ha messo in evidenza come nel primo semestre 2021 le domande di finanziamento per immobili ubicati in comuni con meno di 250 mila abitanti siano state l'88% del totale di quelle presentate in Puglia in aumento di circa l'1% rispetto al 2020. Insomma non si compra solo nelle grandi città e poco per volta lo smart working potrebbe contribuire a ripopolare anche piccoli centri.